Bentrovati su Crystal Cora's Diary e benvenuti a una nuova reaction. Ebbene sì, sono tornati. Ragazzi, sono proprio loro, una band che ci sta accompagnando da ormai un po' di tempo qui su questo canale che mi avete fatto scoprire e per questo vi sarò eternamente grato perché è diventata una delle mie band preferite dell'ultimo periodo, devo dire, e sto parlando ovviamente delle Love Bites. Ne abbiamo già sentite parecchie di canzoni, ma devo dire che ci sono moltissime persone che mi stanno suggerendo ulteriori canzoni. Una di queste è una versione live ed è una cosa che ho visto tornare molto spesso, cioè più persone mi hanno più volte suggerito questo brano. E quindi, dato che stiamo facendo proprio un deep dive nelle Love Bites ultimamente, beh, direi che è il caso di sentirla, questa canzone. E questa canzone è Swan Song con però una intro di Chopin, immagino fatta al piano. Dunque, il live è Five of a Kind 21-2-2020. Quindi, ragazzi, senza ulteriori induggi, Love Bites, Swan Song più Chopin intro. Vediamo di che si tratta. Questa è un'era chitarrista, eh? Perché non sapeva suonare già abbastanza bene la chitarra. Mettiamoci pure una formazione da pianista classica e suonare un pezzo come questo. Perché no? È un'era chitarrista, eh? Questa canzone è bastardella con la mano sinistra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti